Le prove invalsi sono dei test effettuati nelle scuole elementari, medie e superiori, il cui voto non è vincolante per la media aritmetica, ma lo è per la missione agli esami finali, quelli di terza media e quelli della quinta di secondo grado. Il Ministero dell'Istruzione, grazie ai risultati ottenuti dalle prove, ridige delle statistiche sul livello di istruzione degli studenti e sulla qualità della didattica. Secondo i dati, Lombardia è il 70% degli alunni della quinta elementare e ad un livello base in italiano, mentre in matematica solo il 63% raggiunge la sufficienza. A detta degli studenti di Cremona, i test invalsi non hanno un'utilità, soprattutto perché non vengono forniti i risultati delle prove. Abbiamo fatto le prove invalsi di italiano, matematica e inglese, mi pare, credo di queste materie principali, dove non ci hanno mai dato risultati e basta. Sono utili, secondo me, però fino a un certo punto, perché se non sono risultati non posso confrontarmi, quindi non posso sapere che errori ho fatto, quali ho fatto e quindi è solo per questo. Il voto non c'è stato dato, però gli argomenti, cioè, dipende, perché alcuni non sono stati ripassati, riguardati, o sono stati proprio fatti così a caso. e quindi il voto, proprio perché appunto non c'è stato il voto, magari la gente l'ha preso anche un po' meno serio, ecco. Tu sei del quinto anno? Sì. E tra poco avrai le prove invalsi? Suppongo di sì. Ma non ci sarà un voto, non fa neanche media col voto finale dell'esame? No, però servono, dicono che servono per la missione, cioè, se non le fai, non ti ammettono, perché devi almeno essere presente per essere ammesso all'esame. Hanno detto che non c'è, non fanno media, comunque, tipo la nostra prova di matematica ci ha detto di prepararci con magari altre prove invalsi degli anni scorsi e cercare comunque online. Quanto vi impegna nel programma scolastico? Quanto tempo prima vi preparate? Ma, cioè, noi cominciamo a prepararci un po' adesso, che ci hanno avvertiti e comunque non ci prende troppo tempo. Quando l'avrete voi? Settimana prossima, cioè, cominciamo noi.